No, non pensavo all'inizio di giocare subito, comunque sto a giocare abbastanza, però adesso devo essere bravo a continuare e continuare a fare bene, crescendo sempre qui. Sì, devo dire che mi sto trovando bene, anche a tre, non avevo mai giocato con questo modulo, però sto avendo risposte positive, anche i risultati parlano chiaro, comunque deve essere un percorso di crescita, quindi spero di andare sempre migliorando, trovare continuità e giocare sempre di più. Il calcio è così, a volte vanno male le cose come era successo precedentemente, infatti abbiamo avuto risultati, abbiamo portato a casa risultati che volevamo, con molti pareggi, come a Rimini o anche a Imola, e invece adesso finalmente abbiamo trovato la vittoria e speriamo di vincere il più possibile. Comunque due partite di seguito e l'ambiente circostante è sereno, quindi lavori molto meglio e puoi ottenere risultati importanti. Per quanto riguarda la partita non so come la affronteremo, sicuramente saremo aggressivi come abbiamo dimostrato di essere in queste ultime due partite, però del resto non so ancora.